Benvenuti in questa ennesima recensione di Amazon fatta così Mi hanno un co-sistemato le luci, me ne sono fottute il cazzo Perché ragazzi, come loro non ci mettono l'impegno Ma perché cazzo dovrei fare io l'impegno per la recensione? E ora non venitemi qua sotto a dirmi che questa merda te protegge Che veramente mi sono dovuto proteggere, porca puttana, prendendomi 10 caffè Perché mi sono addormentato più volte con questa merda C'è un film d'azione in cui l'azione, sì, alcune scene le salve Abbiamo, dai, abbiamo Maggie Q, abbiamo Samurai Jackson Che ormai lui ovunque fa sempre lo stesso personaggio negli ultimi 30 anni Fa sempre lo stesso personaggio, no, proprio stereotipato al massimo Volgare, eccetera, poi mi diranno qua sotto Eh ma tu non sei, almeno che cazzo non sono stereotipo di qualcosa E ora io già mi immagino qui sotto il classico Io mi ci sono fatto una seca su Maggie Q E quindi è bello il film No, devi andare a cacare Il film bisogna valutarlo per quello che è Non me ne frega un cazzo chi ci può stare Può recitare anche Gesù Cristo come protagonista Non mi interessa Una seca Non me ne frega niente Quindi, cosa dobbiamo dire sto protecè? Porca puttana, ma Amazon Se devi produrre stai stronzata sta gente Ma dalle ammessi soldi Può essere che produco qualcosa di diverso Può essere pure una merda Perché non ho le competenze Ma almeno non mi vedo per l'ennesima volta Porca puttana La Nikita dei povi della Luc Bisson Porca puttana Ma sempre con questa assassina Che veniva, no, molestata Violentata E poi, no, viene salvato da questo mentore Che era un killer Che poi insegna tutto quello che deve insegnare a lei Poi ammazzano il mentore Lei si incazza Quindi si deve ammendicare Sempre queste cose Sempre solite cazzo di cose Ah, mi sono dimenticato C'è Michael Keaton Eh, sì, perché Michael Keaton Ma l'ha fatto Cosme si chiama Beardman Ma è ovunque Quindi ha fatto poi The Founder Deve fare lo stronzo Anche qua Fa lo stronzo Si vorrebbe trombare Megiku Megiku un po' Gli piace, non gli piace Tra lotte e trombate Boh, chi lo sa come andrà a finire Tra Megiku e Michael Keaton Meglio non saperlo E risparmiatevi sta stronzata Cosa, cosa, cos'è questo film? Che cazzo è? La classica cosa Viste, strariviste Che ho visto già In Yves Sportato Eva Là come cazzo Eva come l'Ava Ava, Ava, Ava si chiamava Su Amazon Ho visto C'è uscito un altro Ennesimo film Di un'altra killer Russa Che non mi ricordo come si chiama Sempre col suo nome No, anzi che qua Gli hanno messo il nome di lei Porca troia Quindi l'hanno chiamata De Protégé Ma Protégé cosa? Ma che cazzo Me ne frega a me De Protégé? Ma porca puttana Ma che cazzo Gli può piacere? Può piacere a chi Non ha mai visto Sti film Con un'assassina Addestrate anche No, Vendicativa Che si deve indicare No, del suo mentore Che gliel'hanno ammazzato Allora Può essere che Vi può piacere un po' Ma se siete come me Che siete cresciuti A Nikita E a crescere Con film Che già ci sta Un'assassina Addestrate Che fa tutte Ste cose qua E allora Vi rompete il cazzo Come ho fatto io E mi ci sono anche Quasi addormentato Non sapevo cosa fare Mi sono tagliato Le unghie dei piedi Delle mani Quasi quasi Stavo tagliando Anche le unghie dei piedi Ai miei parenti Ma non l'ho voluto Perché mi fa schifo A cazzo Quindi ragazzi Fatemi sapere un po' la vostra Se vi piace Non vi sta piacendo Però ragazzi Direte Eh ma sei cattivo So cattivo il cazzo Ragazzi So cattivo Questi prendono un sacco di soldi E ci portano Ste stronzate Ma vaffanculo Porca puttana Ma io non lo so Va Come sempre ragazzi Vi ringrazio Scrivetevi al canale Scusatevi Se non vi rispondo Subito i commenti Perdonatemi E L'hashtag di oggi È Basta Con ste killer Non le sopporto più Mi sono rotti i coglioni O che cazzo ne so Basta Con ste falsi Nikita Scegliete voi Ho un altro hashtag Non Mi voglio addormentare Non lo so Io Oggi sono così Mi sono Ho voluto fare Questa recensione Molto Di cuore Anche Perché mi sono Un po' Anche rotto I coglioni E meglio Non ve le faccio Perché i coglioni Ce l'ho pure avviolati Di queste stronzate Niente Ragazzuoli Io vi ringrazio Come sempre Un saluto Alla regia Un ringraziamento Anche a lei E alla prossima recensione Sperando Che i miei coglioni Sopravviveranno Sennò Amen Non produco più